...d'acqua a causa delle forti piogge, tra Roncoscrivi e Isola del Cantone abbiamo due chilometri di coda verso Milano. Inoltre è sempre sulla 7 per un incidente ormai risolto all'interno di una galleria. Tra Bolzaneta e il Bivio per la 10 Genova-Savona permangono 4 chilometri di coda in direzione Genova. Ci spostiamo poi sulla 26...